Viene recuperata giovedì 8 aprile la partita della sesta giornata di andata del campionato di Serie C Don tra la Ballavolo, Cerignola e Giovinazzo. La gara in origine si sarebbe dovuta disputare tre settimane fa, ma era stata rinviata a causa del polcolaio che era scoppiato all'interno del team Ofantino. Dopo pochi giorni fu riscontrata la negatività dell'intero staff tra giocatrici e tecnici. La Ballavolo Cerignola arriva a questo recupero di campionato dopo la sconvita subita sabato scorso ad opera del Volley Potenza, capolista del torneo, con il punteggio secco di 3-0. Ed è la prima delle tre partite di recupero di questa stagione. Le altre due sono quelle con la formazione della sportilia viceglie che sarà il 5 maggio, mentre resta ancora da definire la data della contestata partita contro la star bolle i viceglie. Grazie. 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 Grazie.